Buongiorno, comunque allora in stigione mi ho comprato questi cappellini qua, ce l'abbiamo nero, grigio, crema e grigio Buonasera a tutti, allora faccio questa storia perché devo assolutamente farvi vedere questo vestito, bellissimo, mi sono innamorata Adesso levo lo zoom e se riesco, ok prossima storia, non ci riesco Eccolo qui, allora vi taggo qua subito il brand che è Nacre, è sempre lui E nulla, ditemi voi come vi sembra, è piace da morire Poi adesso l'ho abbinato con queste scarpe qua senza il tacco, però con quelle con il tacco vi assicuro che è bellissimo In case we end up leaving all this behind But I'm here right now, right now, just getting in a cloud, oh I'm here